Ciao ragazzi, mi sono appena svegliato se non si vede e faccio questo video solo per dirvi alcune cose, allora non so perché ma Camtasia non ha caricato stanotte l'episodio di amnesia e quindi ve lo ritroverete lunedì ad anno nuovo e è un episodio molto speciale, ci sono degli ospiti molto speciali quindi non ve lo perdete mi raccomando e niente faccio questo video per scusarmi di questa cosa ma Camtasia mi sa che col computer portatile il portatile dopo un tot va diciamo in stand by e quando va in stand by boom si blocca tutto taglia le connessioni e non si carica niente, insomma fatto stacker non me l'ha caricato e ragazzi mi dispiace però ci rivediamo anno prossimo cioè lunedì, è strano un po' da dire ma è così e niente buon anno ragazzi divertitevi non fate troppo casino e bella